Grazie a tutti, questo è un lavoro interno, ma da che c'è qualche freddo, potrei spendere molto tempo con questa ultima presentazione, quindi sto giocando, quindi andrò as fasto come possibile, perché siamo freddi. Questo è un lavoro interno con Emilio Barchiesi, che ha fatto tutte le simulazioni numeriche con il codice commerciale, COMSOLE, con il programma simple MATLAB, e con Anil Misra, con cui alcuni anni fa abbiamo concebito la 2D generalizzazione di un modello precedente 1D. Quindi l'obgetto di questa presentazione è la propagazione di frattura e faremo questo dentro del frammento di materiale isotropico di strana di gradiente. materiale. L'outline della parola è come si fa, al principio vi dirò qualcosa di necessità di un approccio non locale. No, non credo. questo, non credo. Ah, muove questo. non ho visto la barra, l'emozione, quindi dopo qualcosa sulle meccaniche e la necessità di una approccia locale per questo campo, vedremo la formulazione variazionale che usavamo per derivare le equazioni, le equazioni parciali differenziali, le condizioni fondamentali e le condizioni Karos-Kuntuker per questo modello di amico, e poi vedremo alcune simulazioni numeriche e conclusioni. Per la prima parte, discuteremo un po' le avventure e le disavventure di usare il gradiente di amico o il secondo gradiente di disavventura per implementare la non-località in queste meccaniche di amico. Quindi, in classica meccaniche di amico, in standard meccaniche di amico, possiamo dire che l'energia interna è una funzione di strano, dove U è la disavventura e G è la strano, definito così, e ω è il problema di amico. Inoltre, la localizzazione delle formazioni è sempre preferenziale dal punto di vista energetico, e quindi c'è la necessità di introdurre alcune lunghe caratteristiche. E questa lunghe caratteristica può essere aggiunta in molte mani. caratteristiche e quali sono le mani che sono usate nella letteratura. Tra l'altro, il più importante è questo, quindi aggiungiamo il gradiente di amico con con molta literatura su questo metodo. E un'altra forma è di introdurre il gradiente di amico. e faremo una simulazione numerica in questo framework. Anche per questo approccio abbiamo molti autori. In molti casi, le persone sono presenti anche qui. Quindi, sarebbe bello discutere con voi su questo. Ora vorrei mostrare alcuni avvantaggi e disavvantaggi dell'altro approccio. Quindi, sceglieremo il gradiente di amico e vedremo alcuni risultati. Quindi, gli avvantaggi di usare il gradiente di amico. Il primo è il più triviale. Amico è scalare. Displacimento è un vectore. Strain è un tensore. Perciò, è molto più complicato di introdurre il gradiente di amico con rispetto al gradiente di amico. Questo significa che le equazioni non solo sono più facile, ma anche il numero di parametri di amico e indipendenti di amico è meno. Quindi, questo è un'avvantaggio molto forte dal punto di vista dell'ingegneria. Inoltre, è stato provato che con l'introduzione del gradiente di amico con l'introduzione del gradiente di amico abbiamo la convergenza verso il criterio di Griffith ben accettato. Quindi, questo è un bel avvantaggio. L'avvantaggio di usare il gradiente di amico è, sull'altra parte, la seguente. Per esempio, abbiamo una buona interpretazione delle condizioni di amico. In termini di quanto? In termini di displacimento, il gradiente di displacimento normale, da un punto di vista kinematico, o in termini di forza, double forza, anche per il gradiente di amico e per il domaine di amico 2D, anche per la forza di amico del domaine. Potete anche aggiungere. In due casi, la kinematica è la stessa. Le quantità kinematiche fondamentali sono il posizionamento e il amico. Inoltre, nella approccia del gradiente di amico uno assume sempre una condizione naturale fondamentale. Se usate il gradiente di amico, dovete assumere alcune condizioni di amico. Ovviamente, non puoi assumere alcune prescripzione di amico di amico, perché vuoi derivare questo dal gradiente di amico. Quindi, assumete il dual, il gradiente di amico normale. Il modo più facile e naturale è di usare zero gradiente di amico normale. Inoltre, se usiamo questo, possiamo dire che, sicuramente, esistere un'interno fondamentale dentro del domaine, in una certa forma che la vostra soluzione, in termini di amico, ha una differenza di zero gradiente di amico normale. Quindi, se facciamo ora la simulazione solo in una parte restritta del domaine, quale tipo di condizioni fondamentali usate qui? se usate zero gradiente di amico normale, la simulazione sarà diversa. Quindi, è una contraddizione. Se usate diversi gradiente di amico diversi gradiente di amico, bisogna un'interpretazione per questa condizione fondamentale. Quindi, questo è un problema dell'interpretazione di questa condizione fondamentale, che non è triviale, almeno per me. Il secondo avvantaggio di usare un approccio gradiente di amico è che possiamo dire, regolarizzare, magari questo non è una buona parola, ma possiamo regolarizzare anche la simulazione anche nella fase elastica, che, a volte, è importante, perché, per mostrare questo, possiamo chiedere molti esempi. Inoltre, vi mostrerò un esempio che ho trovato dall'esercizio dell'esercizio di Pier Cepescher quando ando in Toulon, con questo semplice esempio. Abbiamo un domaine 2D e manteniamo il frattamento di questo frattamento fixato. Il trasplacimento è zero nella frattamento e trasplaciamo solo il punto centrale fuori di uno. E poi, se vuoi trovare il minimo di energia di seconda gradiente lo puoi trovare con alcune calcolazioni e questo minimo è finito. Quindi, bisogna trovare qualche energia per arrivare a questa soluzione. Questo è bene. Inoltre, se fai lo stesso con l'energia di tipo di gradiente la soluzione è molto strana perché non hai bisogno di energia per arrivare a questa soluzione. Questo significa che quando hai qualche forza concentrata nella elasticità standard anche se il materiale è homogeneo la sua simulazione per sicuramente avrà una dependenza In ogni modo, devi trovare un modo di ridere questa concentrazione. o la sua misura deve essere molto raffinata sulle forze concentrati. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto. Ora abbiamo preso il gradiente per esempio, e vediamo la formulazione che abbiamo usato. Perché la formulazione perché la teoria è nuova quindi bisogna trovare le condizioni direttiche fondamentali e abbiamo preso un principio variativo che ho visto per la prima volta la prima che ho visto questo tipo di principio variativo è nel 1947 da Hill e usato da molti altri ricercatori interventi cosa è l'idea? Assumiamo l'energia la variazione è derivata e poi assumiamo questo tipo variativo interventi per ogni interventi virtual velocità vi vediamo che la velocità è sempre positiva perché il nostro velocità è solo positivo quindi questa è la variazione che abbiamo assumito come rilassato in 1989 questa variazione è bella perché può essere interpretato in modo l'idea qualità dice che non più più che possibili quindi ha un significato intuitivo quindi mantenendo questo in mente ora deve specificare quale tipo di energia usiamo questo questo è standard total energia per le due decay strane materiale quindi abbiamo un'energia interna interna e un'energia externa in termini diverse possibili esercizze dentro questo framework e U è decoppiato in due parti, una parte elastica e una parte dissipata, la parte più facile. Possiamo cambiare, ma il più facile, per esempio, è questa. Questa è la energia elastica per il 2D strane gradiente, isotropico materiale. Ma l'AME coefficienti e i 4 extra coefficienti per il secondo gradiente effetto, nel caso del 2D, che ho chiamato qui A, B, C e D, tutti questi 6 parametri dipendono sull'acqua. Come? Come è intuitivo, l'AME coefficienti diminuiscono con l'acqua. Se l'acqua aumenta, l'AME coefficienti deve diminuire. sull'acqua. Nell'altro, il 2D gradiente effetto elastica, voglio mantenere la stessa relazione lineare, come l'AME coefficienti. Ma, voglio rilassare questo minus, mettere questo n, e questo n, che appartiene al numero reale. Perché? Perché qui non abbiamo nessuna storia di questo, non c'è nessuno che ha fatto questo. E, in realtà, con questa considerazione, possiamo anche justificare la possibilità di avere un positivo n. per esempio, se hai un materiale omogeneo, un-damaged materiale, e si excite da l'altra parte, con una certa frequenza, la velocità, se il materiale è omogeneo, è indipendente da ogni frequenza. Questo corrisponde a un standard Cushy Continua, quindi A, B, C e D probabilmente sono zero, o quasi zero. Però, se il damage inizia a crescere, magari questo può essere interpretato come un-homogeneo materiale, quindi la velocità dipende sulla frequenza, probabilmente. E, quindi, la giustificazione del fatto che, in questo caso, almeno al principio del processo del-damage, può essere positivo. Questo è qualcosa di contrarreintuitivo, intuitive, perché il damage aumenta la stigione, ma questa può essere un'esplanazione. Comunque, le persone che lavorano tutta la vita in meccaniche fratture, per loro questo è molto strano, perché non è possibile. In realtà, in fratture, in fratture, qui, è chiaro che l'energia elastica dovrebbe essere zero, qui, perché non c'è nulla. In fratture, in fratture meccaniche, è natural di chiedere n uguale a minus 1 e tornare alla formazione del Lame coefficiente. In effetti, in nostra simulazione numerica, non usiamo esattamente minus 1, ma neanche minus 1, perché le simulazioni numeriche non funzionano con minus 1. Questo è un trucco che è usato molte volte in meccaniche di damage. L'idea è che qui vuoi riprodurre un sistema intrinsically discreto, due parti del corpo che sono disgiunti, con un corpo, in effetti, con una configurazione Lagrangia, con una configurazione singola referenza, e quindi dovete aggiungere alcuni trucchi. E questo è un trucco. Ma vedete che questo n è davvero molto vicino a minus 1. Standardi e non standardi argomenti per le nostre inequality variazioni. Da argomenti standardi, non vi faccio i dettagli, ma da argomenti standardi è possibile per provare le equazioni standardi parciali differenti, con stress e hyperstress in un modo standard, e anche condizioni fondamentali in termini di forza, doppia forza, anche a vertice, tutto è lo stesso come la elasticità standard. Ma puoi anche avere alcuni argomenti non standardi in cui puoi derivare, da questa formazione, direttamente la condizione Karush-Kundtuker. Ovviamente, se il amico aumenta, quindi l'omega dot è meno di zero, du per l'omega è zero, e da questa equazione hai un'espressione analitica per amico con rispetto al gradiente di strage. L'espressione è troppo lunga, quindi l'ho compressato in questo slide in modo simbolicamente. Ma hai davvero un'analitica. Quindi, qual è l'idea? L'idea è di usare un console per derivare, per simulare elasticamente il tuo corpo. Poi esporti i dati in MATLAB. In MATLAB puoi imporare l'amico, la condizione Karush-Kundtuker, e poi imporare ancora una console. E poi facciamo la simulazione, e poi torniamo da questo. Ovviamente, questo non è un modo molto bene ottimizzato per fare la simulazione. Prima di tutto, devi andare a cambiare da un programma all'altro. Il secondo, il console è un codice commerciale, quindi non è ottimizzato per nulla. Quindi, posso dire, potrebbe essere migliorato. Oltre, il rectangle che abbiamo chiesto di queste due dimensioni, la scala di lunghezza, quindi la ratio tra il secondo gradiente e il primo gradiente, l'efficienza elastica, la ruta quadra è meno di 1 mm, e il pre-notch, questo pre-notch, ha un angolo di 45 gradi con rispetto all'orizzontale. E facciamo la simulazione numerica in tensione e in chiave. E questo è un soggetto del mese. E ora possiamo mostrare qualche simulazione numerica. La prima simulazione numerica è la fraccione energetica elastica versus la displacione prescrizione in tensione. Quindi, qui abbiamo la displacione, e le linee verde di questo, abbiamo la fraccione energetica elastica. che abbiamo la fraccione energetica, fino a qui, tutto è elastico. Cosa è il mese? Il mese è la energia dissipata. Nel principio non abbiamo nessuna dissipazione, e a un certo punto tutto è dissipato, e la fraccione elastica sta diminuendo. Quindi, questo è un comportamento molto bene quasi-brittale, il comportamento fraccionale. E questa è la reazione del displacimento imposto, o l'avversario di Lagrange è usato per fortuna di displacione uniforme, orizzontale, Ubar. E vedete ancora che, al principio, questa reazione è linea rispetto a U, a un certo tipo, perché, perché della fraccione, perché della fraccione, hai un comportamento di diminuendo la reazione, perché la materia è bruciata. e questo è il controplotto del displacimento del displacimento, del suo domenico, e vedete la propagazione della fraccione, con il tempo, o il tempo pseudo che segue. e così via. Ho mostrato qualche parte caratteristica della storia di questo controplotto del displacimento. e, alla fine, hai arrivato esattamente al comportamento del displacimento del displacimento. Vedete che la lunga di questa fraccione resta costante con rispetto al tempo, di questo tempo, excepto per alcuni effetti fondamentali fondamentali. Nel principio, non è possibile vedere ora, ma al fine è possibile vedere. Inoltre, se avviate, questo è nuovo con rispetto al risultato pubblicato, se avviate una foto, che si avviate l'energia dissipata versus la lunga del displacimento, quindi, questa è una calcolazione a posteriori della dissipata energia versus la lunga del displacimento. E vedete che, excepto dal principio, dove abbiamo questo effetto fondamentali, e, alla fine, dove abbiamo questo altro effetto fondamentali, la dissipata energia è proporzionale alla lunga del displacimento, e questo è esattamente quello che aspettiamo in questo campo. E, un'altra cosa che vogliamo mostrare, che è aspettato, è che il risultato si va verso il valore maximale del stress. Quindi, vedete che qui, il stress è più alto, e quindi il risultato si va in questa direzione e seguono la parte del corpo che è più stressata fino al fine. Ovviamente, al fine, il stress è quasi zero, perché non c'è nulla, perché adesso, al fine, hai quasi due parti del corpo. E questo è il testo in SHARE. Nel testo in SHARE è bello, perché l'orientazione del dolore è diversa dal tensile, spero di essere. E poi, a un certo punto, comincia anche qui, per cominciare un altro tipo di dolore, qui. E, alla fine, questo dolore è riunito e il materiale è rompito. Anche in questo caso, vedete che la profondità del dolore è constante, e questo è una constante materiale, e è vero al ratio tra il coefficiente seconda gradiente e il coefficiente seconda gradiente. E lo stesso per la evoluzione stress, si seguono il stesso comportamento. Quindi, qualche conclusione. La mecanica continuante che abbiamo detto in questa presentazione. La mecanica continuante perché la presenza di localizzazione di strage, è vero una generalizzazione non locale. Abbiamo mostrato alcuni avanti, gli avanti e gli avanti gli avanti passaggi, dell'inclusione dei non locali effetti due alla presenza in l'energia interna del gradiente del dame e del second gradiente del displacimento. Poi, abbiamo esplorato il caso di un modello di strage di gradiente di dame dell'energia internazionale e ottenuto un sistema di equazioni di equazioni di partenza di differenziamento di condizioni di condizioni di condizioni di condizioni per usare una approccia di variazionale inegualità. Poi, su un'altra parte, abbiamo visto che aumentare il secondo gradiente modulo I, quando il dame aumenta, capisce, quando N è più o meno di zero, capisce la formazione di nuove microstrutture anche se il materiale soffisce su un'altra parte. Ma su meccanica su un'altra parte, abbiamo visto che simulazioni quasi-brittore frattuale sono possibili in realtà solo diminuendo il secondo gradiente modulo I, quindi, assumendo N è uguale meno 1 o quasi meno 1 se non siete buoni nella simulazione numerica. Abbiamo visto che in la simulazione numerica e come aspettate, come vogliamo in realtà, che la profondità non aumenta i suoi lati durante la propagazione e che la energia di dissipazione è proporzionale alla lunghe excepto il effetto fondamentale ma questo ovviamente dipende sul problema. e quindi questo è fatto. Questo è quello che hai fatto. Grazie. Grazie mille. Abbiamo tempo per discussione. È perfetto. Oh, 4 domande. Ok, 5. Alla di loro. in questo caso, il fratto è come fratto di fortuna, fratto di fortuna e così via quindi come hai iniziatamente questi parametri in tua formazione? è K, hai detto che l'energia di dissipazione è 1.5 K omega al quadro, la più facile ovviamente K ti dà la velocità di evoluzione di damage il più alto è K, il più alto è la velocità di aumentazione di damage e quindi anche di propagazione di damage quindi questa è la difficoltà che credo che hai menzionato insieme con l'entrinsic length è importante insieme con l'entrinsic length ah, ovviamente, sì no, un momento, ok, se omega aumenta l'entrinsic length cambia perché l'elastic moduli cambia l'entrinsic length depends upon the ratio the ratio between second gradient coefficient and first gradient coefficient since this coefficient depends upon damage of course if the damage changes also this ratio will change in your approach it remains constant both quantities degrade with 1 minus omega yeah, it's almost constant 1 minus omega in fact the crack thickness in fact is almost the same in the bulk in the bulk in the bulk in the bulk and then we do a cycle in in MATLAB and we check sorry yeah, because we have analytical expression of for Takharov's control if you want to do this with the gradient of damage you should do you should export I mean since if you use the gradient of damage you do not have an analytical expression you need to you need to do another simulation just for damage and then you do the same yes yes you were not shown but I studied yeah, but at the same point I had because it is an important question now which I will try to address tomorrow morning usually Quindi gradient damage is used in order to eliminate mesh dependence. Now you do not have gradient of damage, you have gradient of strain, of replacements, second gradient of displacement. It's questionable, it removes mesh dependency. Indeed, in the simulation here shown, a damage concentrates in one element, except the boundary, but the boundary layer effects. No, no, more than one element. It depends, it is really, it is a finite thickness and depends upon the elastic stiffness. The second gradient elastic stiffness. The higher is the second gradient elastic stiffness, the higher is the thickness of the crack. And is this, the thickness of the crack is constant with mesh? Yes, yes. What kind of material do you use? It's just an artificial material. An artificial material. I don't know, I don't know, I don't remember. We have put some numbers, but the importance is the ratio between first gradient and second gradient elastic stiffness. I have another, just as a remark, another advantage and another disadvantage. Ah, very good. There is such type of model that the energy at the fracture surface is here, but that the tribal nature in boundary condition comes out as a simulation. That's difficult in damage gradient models. So, that's a nature, a free surface is formed naturally, so to say. Yeah. This is an advantage, but the disadvantage is that it's difficult to distinguish between tension and compression. That is what we know, if you use this with a bending type specimen, then you will see that your model will predict damage also in the compression machine. Of course, if you want to distinguish tension and compression, this formulation is not good. You should add other, I mean, you should add something, for example, the trace of, we have also tried, but not published, because we have tried to see, okay, trace of G or the terminator of G, you remember? And then, if it is positive, we have a behavior, if it is negative, another behavior. I mean, if you want to distinguish compression and tension, the formulation must be implemented. Maybe in one of the standard ways. And then you are also distinguishable as a gradient, I think you don't think it's that easy. Yeah, of course. And also, sometimes you can also distinguish two kinds of damage. The damage for compression, the damage for tension. We can easily imagine that we have a damage for the second gradient stiffness, because the bones are different from the first gradient one. Yeah. So, it seems reasonable to have two variables. In fact, in the paper of maybe you, there are, this is the simplest way, but for example, in the paper of Massimo Cuomo, that I have seen, when he uses two kinds of damage within the same framework. So, this is possible, and this is also... Attached to different... Attached to different kind of elastic coefficient. Lamaric coefficient and the second gradient, you attach different kind of damage. This is possible. I have used the simplest one, because, I mean, I do not have... The purpose was not to compare with the experiment, so this is just an academic game. So when we look forward to, we will see this encore in the next few days. And while we look forward to seeing some of our challenges, we are not making a difference, but we look forward to seeing a difference between the two different types of parallels. Grazie.